Una bellissima installazione in legno che non è solo un'installazione artistica, in realtà è un contenitore, è una struttura in legno che la stessa installazione come vedete diventa un momento educativo, culturale e divulgativo. Per conoscere meglio le strutture in legno ringraziamo a tale proposito la società Wudenausis che si offerta di fare questa installazione e questa installazione in legno sarà una sorta di casa, di contenitore dove saranno ospitati tutti i laboratori per bambini, adulti, ragazzi, a cura delle varie associazioni culturali e dell'Università Politecnica delle Marche durante questa settimana di Capitale della Cultura e siccome resterà tutto il mese magari continueremo con ospitare i laboratori. Quindi uno spazio in legno, fresco, giovane all'interno di questa splendida cornice, uno spazio temporaneo perché poi dopo la Corte Malatestiana tornerà ad essere meravigliosa e libera come sempre, però per un mese è bello fare quel piccolo cambiamento proprio per ospitare laboratori utili per crescere e per fare cultura. Quali laboratori potranno essere organizzati all'interno di questa struttura? I laboratori saranno a cura dell'Università Politecnica delle Marche in cui parleremo di economia, useremo i visori, tante cose curiose che trovate sul programma, ma poi anche laboratori a cura delle associazioni come ad esempio il Gassi, gruppo di acquisto consolidale, che qui ci farà un laboratorio sulle erbe aromatiche, sul non spreco alimentare, un'occasione per imparare sempre e comunque. La Corte verrà poi ripristinata come luogo di spettacoli e di incontri una volta terminata questa settimana? Assolutamente sì, la Corte anzitutto verrà ripristinata liberandola e ridandole il suo aspetto iniziale, tranne che per un aspetto resterà la rampa e l'accessibilità per i disabili. Questo proprio in vista dell'apertura di fine maggio per gli spettacoli e di questo ringraziamo nuovamente la società che ha accettato di lasciare l'abbattimento delle barriere architettoniche fino a fine estate. Una cosa molto importante per la nostra città, un valore aggiunto che arriva dalla collaborazione tra gli organizzatori di circonomia e l'amministrazione. Ingegner Dini, Wudenhausis, che cos'è? È un'azienda che costruisce case a strutture in legno, si trova a Sant'Angelo in Vado, io mi occupo di strutture in legno dal 1989, Wudenhausis è dal 2002, ma costruiamo case a strutture in legno. Questa struttura che state montando a Fano, come è nata? L'idea è che cosa serve da voi? L'idea è di replicare in qualche modo una struttura in legno che somiglia a una casa, perché comunque ha anche le sembianze di una casa, quindi fa anche da protezione dagli intemperi, anche se è una struttura effimera, perché è un'installazione. Comunque è fatta utilizzando legname naturale, perché tutto il legname che utilizziamo è PFC e c'è un po' tutti i requisiti che servono per tutti i concetti della sostenibilità. Fra l'altro è una struttura completamente rimuovibile e riutilizzabile, per cui una volta finita la performance può tornare la corte malatestiana bella e pulita come prima. Una casa in legno certamente risponde a tutti i requisiti ambientali, ecologici e via dicendo, ma anche economica? E anche economica, poi soprattutto come gestione, perché le nostre case sono tutte in classe A4, sono tutte elettriche, quindi hanno molti molti requisiti, anche molto innovativi. Sismicamente le risposte sono eccezionali.